Eccoci ragazzi, Apple Store Fifth Avenue, il cubo è ancora coperto perché stanno facendo i lavori Ovviamente è aperto 24 ore, Greco dov'è finito? Greco dobbiamo entrare? Greco? Ma secondo te le calde arroste? Come? Le calde arroste secondo te sono buone qua Le calde arroste? Eh se no se mi faccio un panino, se mi faccio un bel panino leggero leggero Greco sono le due di notte in Italia, quindi basta E c'è il verme solitario Vabbè facciamo una cosa, entriamo nell'Apple Store, postiamo tutti i video E poi dopo andiamo a dormire un paio d'ore no? Ma si un paio d'oretta E poi domani altre 7 ore di volo qui, è una passeggiata Poi facciamo il giro del mondo Comunque New York, Fifth Avenue Facciamo il giro del mondo, dall'altra parte passiamo dall'Australia e torniamo Abercrombie laggiù Comunque New York anche per poche ore vale la pena venire sulla Fifth Avenue e a Times Square E un salto all'Apple Store è ovviamente immancabile